buongiorno benvenuti alla lezione su shiny avanzato gli aspetti che andremo approfondire in questa lezione saranno tre come aggiungere interattività ai grafici come costruire dinamicamente i grafici cambiando alcune caratteristiche e proprietà da utenti quindi non da sviluppatori in cui bisognerà configurare opportunamente sia il client che il server e poi come operare dei meccanismi base di validazione dei dati iniziamo dall'interattività dei grafici l'interattività è supportata nativamente in shiny sia sulla funzione plot output che sulla funzione plot image e interattività significa poter interagire con un grafico o con un'immagine attraverso click doppio click il cosiddetto hovering quindi passare con il mouse sopra una certa zona un certo elemento del grafico e il brushing ovvero la selezione attraverso un riquadro sempre con il mouse con il mouse di un'area di particolare interesse il programmatore dovrà definire che cosa segue a questi eventi e informare adeguatamente l'utente su cosa può fare con questi eventi sui grafici gli eventi tipo touch sono attualmente in sviluppo e quindi non sono non sono disponibili pertanto il click avviene solamente attraverso il mouse per fare un esempio il ogni volta che un evento del mouse viene catturato perché il grafico è stato istruito per fare ciò le coordinate del mouse vengono mandate al server così come qualsiasi altro informazione proveniente dal dalla interfaccia grafica viene mandata quindi attraverso l'utilizzo delle variabili di input che sono agganciate e create attraverso gli argomenti click double click hover and brush che corrispondono all agli eventi che abbiamo che abbiamo citato le coordinate se vengono usate le direttive del package di base graphics e di ggplot2 sono automaticamente scalate nello spazio dati a disposizione pertanto in un grafico in cui x e y hanno dominio 0 e 10 ad esempio le coordinate saranno non saranno le coordinate dei pixel ma saranno riferite direttamente a quelle del grafico per le immagini sono mandate le coordinate grezze dei pixel dipendenti quindi dallo schermo a disposizione così come in tutti i casi in cui le immagini nel che vengono visualizzate attraverso plot output non a parte non siano state costruite con ggplot2 con o con la libreria base di r per i grafici la l'interattività è gestita totalmente a livello di funzioni argomenti di shiny quindi lato client e lato server per vostra conoscenza sappiate che al di sotto dell'interfaccia shiny tutti gli eventi sono catturati attraverso codice javascript che non dovrete modificare ma è bene sapere che il motore che permette tale interazione e javascript l'evento che viene catturato da javascript andrà a invalidare gli input a cui sono agganciati i shiny e questo per la catena che di cui abbiamo già parlato nell'introduzione a shiny questo andrà a poi avere delle ripercussioni su tutti gli elementi di reattivi che sono collegati all agli input e quindi anche al agli output in breve a tutti i reati il consumers come conseguenza pratica sia il punto 4 che quindi il il plot file plot output genera una nuova immagine seguendo le istruzioni definite sul server che dovranno fare ciò che il programmatore ha deciso di che venga fatto quando avviene viene catturato un evento quindi da ricordare che il qualsiasi evento provoca delle delle comunicazioni aggiuntive tra client e server e quindi anche in questo caso è opportuno disegnare architettare l'interazione in modo da minimizzare il più possibile il flusso il flusso dati in modo da avere un'interazione fluida e non troppo e non troppo pesante il grafo di reattività così come abbiamo visto nella parte precedente anche in questo caso aiuterà a a ideare delle soluzioni che siano che si addono idonee per per una interattività il più possibile parca nel nella nel transito dei dati alcune note più specifiche di per gg plot 2 il attenzione che il il codice nella funzione di rendering deve deve restituire un oggetto gg plot altrimenti non abbiamo quella quella scalamento automatico delle delle coordinate veniamo ora al analizzare i vari eventi partiamo dall'evento click è una cosa come tutti gli altri eventi anche click di default e null quindi in tutti i grafici e tutte le immagini non succede nulla se clicchiamo tuttavia l'argomento click che è presente su sugli elementi di input può essere settato a un valore specifico a un oggetto che viene restituito dalla funzione click ops e andiamo a vedere a dettagliare presto oppure una funzione specifica data dal dall'utente in questo corso vedremo i primi due casi partiamo dall'utilizzo di valori identificativi per che servono a mandare le coordinate del punto che è stato cliccato il valore come detto nel alcune slide in alcune slide precedenti il valore poi verrà utilizzato lato server andando a a usarlo come qualsiasi altro argomento di input quindi il valore plot click identificativo plot click è utilizzato nella forma input dollaro plot click che cosa restituisce questo elemento restituisce una lista di x e y che venga che viene quindi acceduto attraverso la notazione input dollaro plot click dollaro x è ugualmente per y è possibile ottenere lo stesso anche con la funzione click ops che avrà essa stessa un identificativo e pertanto click ops con identificativo è equivalente al settaggio del dell'argomento click uguale al punto all'identificativo abbiamo però in in aggiunta la possibilità di definire il l'ancoraggio del click il funzionamento del click nell'area del grafico quindi quello di default clip uguale true oppure poter ricevere eventi anche al di fuori del dell'area di plot quindi settando clip uguale false tuttavia l'evento funziona solamente all'interno dei 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 limiti dell'immagine e quindi non funziona uscendo da datali limiti andando a cliccare in altre parti dell'applicazione shiny o del documento vediamo alcuni esempi e tenete in considerazione che per tutti gli esempi che vedremo da qui in avanti utilizzeremo un unico data set un data set che si chiama empty cars motor train cars road test e fa parte dei data set che sono disponibili di default in r cliccando a questi link potrete visualizzarli tutti oppure andando a perlustrare che cosa c'è nella libreria data set in data set in questione a un proviene da da una rivista specializzata sulle automobili abbastanza datata e e da delle informazioni rispetto ad alcuni modelli di automobili di degli anni 73 74 vi consiglio di visionare il contenuto del data set utilizzando le funzioni che vedete in sovraimpressione oppure andando comunque a utilizzare le le competenze di r che avete già appreso ci sono varie fonte online come questa che vi menziono qui che che descrivono anche in maniera visuale il contenuto del data set il data frame e a 32 osservazioni su 11 variabile numeriche alcune di queste sono fattori o possono essere trattate come fattori come ad esempio il numero di cilindri useremo principalmente il consumo miglia per galloni il numero di cilindri la potenza e il peso principalmente utilizzeremo queste queste variabili non esclusivamente però quindi alcuni esempi potremmo avere a che fare anche con con le altre andiamo adesso a visualizzare un esempio di evento click con il data set empty cars vediamo queste commentiamo insieme questa app shiny è costituita da un'interfaccia grafica che ha un un grafico si in cui definiamo l'evento click click uguale a point click questo è l'identificativo che ci servirà lato server abbiamo poi un campo di testo identificato con info vediamo ora il server il render plot tendenzialmente quello che fa è di prendere il peso del dell'auto vetture e di metterlo in relazione al al consumo l'utilizzo delle informazioni provenienti dal click avviene nel nel verbo team text output infatti il funzionamento definito lato server e seguente viene visualizzata una scritta con la coordinata x e con la coordinata y quindi attenzione a questo concetto l'evento avviene e viene catturato nel nel grafico ma le informazioni possono essere usate in qualunque elemento del dell'output in qualunque altro output in questo caso abbiamo deciso di usare queste informazioni nel in un elemento di testo di output nulla vietava come vedremo in esempi successivi di utilizzare le informazioni per modificare il grafico stesso vediamo ora come funziona l'app il cursore del mouse può posizionarsi in un punto e quindi abbiamo informazioni nel 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 l'elemento di output di testo puntuali su x e y ovviamente la stessa cosa funziona se clicco in un'altra area del 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 grafico che non corrisponde alcun punto e clicco al di fuori dell'immagine come default non succede nulla perdono bisognerebbe dire al di fuori dell'area di plotting probabilmente in questo posizione sono ancora all'interno delle dell'immagine ma appunto la il clip è definito con il suo valore di default che true quindi non 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 catturo l'evento andiamo adesso ad introdurre un un ulteriore strumento che ci permette di ottenere informazioni di contesto rispetto al all'evento la funzione mia points restituisce un data frame che contiene anche i punti attorno al all'evento di click funziona anche come come ho evidenziato in questo slide per l'evento selezione quindi tenetelo teneto la mente vediamo come vediamo alcune caratteristiche particolari vi innanzitutto vi ricordo che le le righe sono saranno restituite con un ordinamento dato dalla distanza dall'evento e da di default sono restituiti tutti i dati all'interno di 5 pixel di distanza attenzione che con ggplot 2 non dovete preoccuparvi di prendere le informazioni come x var e y var quindi le coordinate perché sono derivate direttamente dal dal dalla funzione di di creazione del grafico e quindi non dovete fare alcuna trasformazione delle delle coordinate a meno che non abbiate costruito il grafico con dei delle computazioni derivati da variabili e come ad esempio qui vedete che io costruisco un grafico con x i metri diviso per mille con y i minuti diviso per per 60 e quindi non attenzione a questi casi particolari avete degli argomenti delle opzioni supplementari che ritengo utile su cui ritengo utile spendere qualche secondo in più per vederli insieme innanzitutto l'opzione all rows che di default è false ma potrebbe essere molto utile perché se la settate a vero avrete in restituzione l'intero data frame di partenza con in più una colonna che la colonna selected in cui avrete vero e falso per l'indicazione se il dato quella riga fa parte dell'intorno dei punti attorno all'evento il la distanza stessa può essere ridefinita andando a a definire l'argomento il parametro threshold potete anche definire il numero massimo di punti che volete che vi sia ritornato e nel caso che all rows sia settato a a true avrete il numero massimo di selected uguale a true quindi perché avete di ritorno tutto il dataset e infine si ha la possibilità di avere un'ulteriore colonna aggiuntiva che è la colonna dist in cui avete anche informazioni sulla distanza effettiva che può essere utile per alcune operazioni vediamo un esempio abbiamo di nuovo la visualizzazione del grafico che vedevamo precedentemente e quindi il grafico sul peso e consumi stavolta abbiamo non un campo di testo come output ma abbiamo una tabella perché vogliamo mettere in tabella l'intorno dei punti corrispondente al click il render plot cambia solo nella misura in cui iniziamo usare ggplot e quindi la sintassi cambia rispetto all'esempio precedente guardate adesso la tabella di output utilizzo render table questa riga che specificheremo tra qualche slide vuole definire un requisito ovvero che il codice successivo venga eseguito solamente quando avviene l'evento di click cioè quando questa variabile è disponibile questa variabile è la variabile che descrive il click l'identificativo del click poi plot click il near points dunque viene attivato solo quando c'è un click che cosa fa? prende come argomento il dataset di riferimento l'evento su cui deve agganciarsi per calcolare l'intorno e poi definiamo una threshold quindi definiamo la distanza di 20 pixel questa è ridefinita perché di default è 5 pertanto questa funzione near points dal momento che l'argomento all rows è di default false restituirà solamente la selezione dei punti appartenenti all'intorno dei 20 pixel e non l'intero dataset con la colonna aggiuntiva selected il funzionamento è il seguente guardate che cosa succede quando clicco su questo punto mi viene restituito tutte le informazioni perché non seleziono alcuna colonna avrei potuto selezionare solamente alcune colonne ma io nella tabella visualizzo in questo momento tutte le informazioni nell'intorno del click che ho definito se io definisco un click a questo livello avrò solamente l'intestazione della tabella ovviamente è possibile rifinire un po' il codice andando a verificare la dimensione del data frame restituito da near points che quindi se dimensione 0 io potrei andare a non visualizzare nemmeno l'intestazione della tabella sono piccoli riferimenti che lascio poi alla vostra pratica l'importante è capire il funzionamento di near points che quindi a seconda del punto in cui clicco e dei parametri che ho specificato mi restituisce l'intorno in relazione al punto cliccato il double click funziona esattamente come il click con qualche parametro in più che è definibile andando a utilizzare la funzione double click ops il parametro aggiuntivo è il delay che va a identificare il massimo tempo in millisecondi tra un click e l'altro per considerare l'evento valido passiamo all'evento hover il comportamento è simile a click ma con dei parametri aggiuntivi anche in questo caso possiamo definire il delay che è in millisecondi che viene calcolato a seconda del tipo di delay che è un altro parametro delay type se throttle viene calcolato un evento ogni delay millisecondi e quindi è come se ci fosse una sorta di clock e tutto viene normalizzato a quello altrimenti con il parametro debounce il parametro delay viene utilizzato per calcolare il tempo in cui il cursore si si ferma e quindi dopo di lei millisecondi l'evento viene definito valido e allora viene viene scatenata la sequenza di azioni che definite il parametro null outside definisce se il cosa fare quando il mouse esce dalla dall'area di plotting ma non dalle immagini quindi è possibile definire se considerare anche i bordi dell'immagine e i margini come parte dell'evento oppure no andiamo a vedere un esempio con un ulteriore shiny app abbiamo l'interfaccia grafica che è composta da un grafico plot cars che va a definire l'evento hover lo definisce non attraverso il valore ma attraverso la funzione hover ops con un identificativo con il delay type che è definito con debounce la seconda opzione ovvero viene calcolato un tempo massimo d'attesa e poi l'evento viene definito come valido e in questo caso un secondo specifichiamo che è una buona pratica che cosa deve fare l'utente utilizzando un tag e quindi specifichiamo di tenere il mouse fermo per un secondo su un elemento di interesse per avere le coordinate del punto sono esempi molto semplici perché ci interessa capire il meccanismo di base e poi abbiamo di nuovo un text output per andare a stampare le informazioni che sono state cotturate dall'evento la funzione di server non è particolarmente interessante per la parte di render plot mentre per la parte di render text e banalmente riproduce quello che abbiamo abbiamo già visto per l'evento click quindi prende dall'input prende l'elemento h e prende la coordinata x la stampa la con catena e così per y quindi se io muovo il mouse in maniera abbastanza veloce non succede nulla qui non succede nulla se io mi fermo dopo un secondo avviene la stampa video avviene anche se mi fermo in un punto che non appartiene a nessuna osservazione se io metto il mouse al di fuori del grafico l'evento non viene più catturato e quindi è come se ci fosse uno reset non appena torno su un punto ecco che ho le informazioni il near points funziona anche con l'over non ci soffermiamo ci soffermiamo invece sul brushing che è l'ultimo evento di cui andiamo a presentare le caratteristiche principali il brushing permette di selezionare con un rettangolo un'area del grafico su cui vogliamo far qualcosa ottenere delle informazioni e i meccanismi di funzionamento sono gli stessi che abbiamo visto finora quindi pensate a click and error points abbiamo i corrispondtivi brush e brushed points la funzione brushOpt che ci permette di di andare a personalizzare in maniera più fine il comportamento dell'evento ci permette di definire il colore il bordo l'opacità e attenzione qui la direzione del brushing ovvero di default voi potete muovervi sull'asse x e y però nulla vi vieta di utilizzare delle selezioni che lavorano solamente sull'asse x o solamente sull'asse y quindi solamente orizzontalmente solamente verticalmente ad esempio potrebbe essere utile per andare a analizzare le serie temporali il reset on new è l'ultimo argomento che vi consente di andare a specificare cosa fare quando il quando l'immagine è aggiornata perché c'è un qualche reactive che che invalida l'immagine quindi deve essere aggiornata qualora si si può specificare se la selezione deve rimanere oppure no bene proseguiamo e il l'esempio che vedete dovrebbe aiutarvi a calare in pratica le specifiche che abbiamo visto poc'anzi il come vedete il brush ops utilizzato sull'elemento di input per per dire qual è l'identificativo e per dare anche alcune alcune piccole personalizzazioni ad esempio voglio un un l'arancione con contorno bianco il nel lato server la funzione è per facilitare la comprensione sempre la stessa quindi peso e consumo il abbiamo una informazione aggiuntiva sulla risoluzione che poco ci serve per per i brushing il render print che lavora sul sull'info sul sul testo info richiede che ci sia disponibile il l'input cell che cos'è e l'evento di debrushing per fare cosa per andare a usare la funzione brushed points che restituisce un data frame con riferimento il data su cui stiamo lavorando empty cards e l'evento invece a cui brushed points si aggancia è ovviamente input cell quindi viene stampato in maniera grezza come verba team text output vuole il cosa abbiamo selezionato ed ecco qui vedete che in questo momento non succede nulla sulla nostra destra o sotto perdono perché perché abbiamo questo questo linee di codice a cui vi rimando di nuovo tra qualche slide e quindi non c'è l'evento e quindi questa questo render è bloccato nel momento in cui io seleziono un'area allora ho il popolamento della parte di di testo con informazioni sul 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 dataset tutte di nuovo perché io non faccio alcuna selezione nulla mi vietava di usare il brushed points di salvarlo su una in una variabile oppure direttamente di selezionare al fondo qui una colonna o un insieme di colonne io posso muovere l'area di selezione allargarla e quindi posso andare a andare a ispezionare i dati con con il livello di dettaglio che definisco lato server quindi è molto utile pensate a un'analisi in cui volete capire gli outlier o alcune posizioni del grafico allora per vedere ad esempio qual è l'auto che consuma di più io posso andare a vedere che a quell'epoca e per quell'insieme era la la corolla della Toyota e così via posso farlo su su ciascun su ciascun punto come vedete cliccando al di fuori del dell'area di selezione io annullo quell'evento non è più valido quindi sparisce anche l'informazione qui sotto e ora è giunto il momento di darvi qualche informazione in più sulla funzione rec che ci permette proprio questo di nascondere alcuni elementi grafici in modo condizionale alla presenza di un input come 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 vi ho detto questo accade perché abbiamo utilizzato il rec la funzione rec su un su un input particolare e che che cosa che cosa fa questa funzione controlla se il valore di input cell non sia alcuno di questi che vedete in questa lista sia false o sia null o sia vuoto una stringa vuota o un vettore vuoto e alcuni casi particolari per cui vi rimando la documentazione principalmente i casi principali sono questi quattro quindi se nessuno nessuno di questi casi si verifica allora il si dice che l'input è truffi è veritiero quindi ha delle informazioni e quindi il rec la funzione rec non stoppa il 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 l'esecuzione del codice se uno solo di questi viene verificato allora si ferma quindi molto utile e lo rivedremo nella parte finale di questa lezione perché è molto utile anche ai fini della validazione per ora lo usiamo perché ci serve per per coordinare meglio la la comparsa di alcuni elementi grafici è giusto per per conoscere il funzionamento se uno degli elementi è falsi come specificato nella documentazione viene lanciata un'eccezione silente ovvero un'eccezione che non viene visualizzata e che però è quella che stoppa poi tutta l'esecuzione di tutti i i consumers che sono a valle e attenzione che sono messi rimangono quindi in uno stato invalido quindi non appena è possibile questi verranno ricalcolati secondo la logica descritta nel codice molto utile molto utile sapere che c'è una una un parametro cancel output che se è stato a falso va a congelare quindi a non mettere uno stato di invalidità va a congelare lo stato dell'output quindi non avete la la cancellazione dovete però dovete però definirlo voi altrimenti di default viene invalidato l'output quindi attenzione a ricordarti questo un'altra cosa che può esservi utile sapere che il rec restituisce l'oggetto stesso quindi se più definite più oggetti li restituirai tutti tramite lista benissimo a questo giunti a questo punto in cui abbiamo abbiamo fatto una panoramica dei dei quattro eventi di interazione possibili click doppio click hover e brush possiamo andare a abbinarli al ai metodi di funzionamento di shiny per avere del avere dei gradi maggiori di libertà nell'interazione quindi avere delle interazioni un po' più complesse di quelle che vi ho fatto vedere fino a questo momento per fare ciò vi introduco il reactive val che è la creazione di un elemento reattivo di un valore reattivo in modo simile al reactive che già conoscete ma con una differenza molto importante che è possibile aggiornarlo e il suo aggiornamento come ormai sapete provocherà cascata tutti l'invalidazione e quindi la ricomputazione di tutti gli elementi di output o ulteriori elementi reattivi che sono connessi quindi al reactive val guardate questo esempio il reactive val che è instanziato in questo modo che è settato a 10 si è salvato su val noi abbiamo che ovviamente val poi ritornerà a 10 se poi noi possiamo andare a ridefinire a cambiare val quindi risettarlo a 1000 e quindi val poi ritornerà a 1000 fare delle operazioni quindi val di val diviso 5 restituirà poi 200 e questo vi permette un po' più di flessibilità e che cosa ci serve iniziamo a vedere qualche esempio guardate questa interfaccia grafica abbiamo un bottone abbiamo l'indicazione di cosa fa un bottone che fa il reset a false di alcuni valori che adesso andiamo a vedere quindi questo è il bottone b reset che come dice il nome metterà a false una serie di elementi abbiamo un plot un grafico che ha l'elemento di brush definito e l'elemento di hover e poi abbiamo un elemento di testo che è identificato con AVG average quindi cosa vogliamo fare vogliamo andare a selezionare degli elementi e calcolare la media di quegli elementi vogliamo anche fare in modo che con un bottone possiamo manualmente resettare quella media quella media e quella selezione dunque adesso osserviamo come questo funzionamento è stato implementato lato server è stato implementato utilizzando facendo leva su il reactive val che all'inizio viene settato come un vettore tutto false di tutti i valori falsi settati e false un vettore che ha lo stesso numero di elementi del numero di righe del dataset su cui stiamo lavorando empty cars e salviamo su selected quindi selected è il nostro elemento reattivo aggiornabile adesso usiamo l'observe event per per andare a definire un'azione in merito al brush perché questo quello che andiamo su cui ci agganciamo quindi noi osserviamo l'evento l'input brush quando c'è una selezione che cosa facciamo guardate questo il codice che segue andiamo a salvare sulla variabile brushed il dataset che viene restituito da brushed points ma non tutto il dataset andiamo a prendere solamente la colonna selected che è quella colonna se ricordate da qualche slide precedente che viene aggiunta quando noi definiamo all rows uguale a true in questo modo noi ci garantiamo un vettore che ha la stessa numerosità del data frame della dimensione del data frame di partenza del numero di righe che è anche la dimensione che abbiamo usato per andare a istanziare selected quindi il brushed points restituisce un colo la colonna selected che dirà vero o falso true o false laddove è stato l'elemento è stato selezionato e poi andiamo aggiornare il nostro selected il nostro reactive val che è un valore di appoggio ci serve per andare a a per andare a tenere a memoria tenere traccia di elementi selezionati lo utilizziamo in questo modo perché ci serve memoria ovvero ci serve un incremento di selezioni e quindi cosa abbiamo abbiamo che questo brushed sarà che il selected sarà sempre l'or tra ciò che è stato brushed e ciò che è stato selezionato nuovamente nell'opposto del mio parlato ovvero ciò che è stato selezionato nell'ultima interazione e ciò che era stato selezionato che è lo stato del vettore reattivo selected ora abbiamo osserviamo questa riga solamente abbiamo un observe event che è sul bottone di reset che cosa fa? risetta tutto il selected a falso quindi fa proprio il reset e ora andiamo a visualizzare i due elementi grafici non ci sono particolari elementi di nostro interesse per il render plot se non che io per come ho non per particolari esigenze legate al brush ma per come ho voluto fare l'esempio io salvo la colonna la io salvo gli elementi selezionati fino a questo momento in una colonna ad hoc del dataset empty cars che che per i motivi che vi ho detto di precedenza io non uso direttamente l'output del brushed points ma uso l'output di questa operazione di OR quindi una volta che io ho il dataset selezionato allora posso anche utilizzare quella informazione nella mia visualizzazione in questo caso io andando a visualizzare il consumo dell'auto in dipendenza della potenza io vado a scolorare gli elementi in base alla selezione e poi vado anche a definire la forma in base ai cilindri per veicolare più informazioni ma di nuovo è una scelta che ci dice poco sull'interazione e badate l'utilizzo del jitter per distanziare un po' gli elementi coloro con una scala di colore discrete gli elementi selezionati in base a true false e poi anche il numero poi vado a definire anche la dimensione e così via muoviamoci adesso sull'elemento dove l'interattività gioca il ruolo principale che è ovvero il calcolo della media nel render print io lo rendo condizionale all'evento di brush con il rack come abbiamo imparato e poi vado di nuovo a anche in questo caso vado a aggiornare il data frame la colonna cell che ho definito io con il valore selected mi salvo gli indici e uso questi indici per calcolare la media degli elementi selezionati quindi io calcolo la media andando a fare la somma di tutti i consumi dal dataset empty cars solamente in relazione agli indici dividendo per il numero degli elementi selezionati quindi sommo sugli index is uguale a true il funzionamento è il seguente vedete il grafico in cui ho il consumo in relazione alla potenza ho l'informazione sul numero di cilindri vedete che è utile aver fatto il jitter perché in alcuni casi sono molto vicini e in questo momento tutto è blu perché non ho selezionato nulla false ricordate che il colore è dipendente da cell che è una colonna che rispecchia il reactive val selected mettiamo caso che io sia interessato a conoscere la media di questo gruppo ed ecco qui che io ho la media calcolata che è 29,26 guardate io adesso ho deselezionato l'area quindi io non ho più un'informazione sulla media perché l'ho già avuta ma attenzione per come ho impostato l'app questi elementi rimangono selezionati perché ho voluto che rimanessero selezionati in modo che mi permetta ad esempio di aggiungere in un secondo momento altri elementi quindi la media è calcolata su tutti questi elementi selezionati sia quelli precedenti sia quelli successivi e questo è stato possibile grazie a questa operazione perché io avevo un reactive val di supporto in cui andavo a tenere memoria degli elementi già selezionati selected con gli elementi nuovi selezionati e quindi è possibile questo meccanismo vedete in questo caso non cambia nulla perché sono già selezionati e così ad esempio io posso andare a isolare a manina qui è un po' più difficile però posso andare a isolare e ce l'ho fatta tutte le auto che hanno quattro cilindri e in questo caso stampo solamente la media avrei potuto salvare molte più informazioni e fare molte altre cose quel che mi interessa è in questa sede è solamente mostrarvi il meccanismo base poi potete scalare a piacimento sulla base delle vostre esigenze notate che il bottone false andrà a ridefinire tutto su false attenzione perché per come ho definito l'app io ho ancora la selezione attiva vedete e questo avviene per come è definito l'elemento di output nel momento in cui io disattivo la selezione vedete che tutti gli elementi effettivamente ritornano a false quindi giocate un po' con questo e come piccolo esercizio potete pensare a come evitare questo meccanismo come vedete noi non abbiamo definito ad hoc questo meccanismo però abbiamo usato i valori di default quindi dovrete andare a definire il funzionamento del refresh in modo che faccia ciò che meglio volete quindi ve lo lascio come piccolo esercizio e ripeto il problema è che quando se io ho la selezione attiva vedete continua ad avere la selezione anche se il grafico viene aggiornato quindi è questo e posso si può in qualche modo avviare se si vuole avere quel comportamento il piccolo esercizio che vi lascio anche è di disegnare il react graph dell'applicazione vi consiglio pertanto di stoppare per un momento questo video e senza guardare la soluzione che arriverà tra pochi secondi andare a analizzare il reactive graph bene questo è il reactive graph su cui vi ho proposto l'esercizio per riflettere sul ruolo del reactive val che è reactive val e selected il bottone di reset agisce direttamente sul reactive val e quindi non agisce sul leverage ma agisce sul reactive val su cui si fa carico anche di prendere la selezione derivante dall'evento di brush e quindi l'aggiornamento della media dipende strettamente dal reactive val ma anche per come abbiamo costruito il grafico dall'evento point brush e anche l'utilizzo della funzione rec ci ha permesso di rendere dipendente questo aggiornamento a seconda della presenza di una selezione e ovviamente reactive val agisce anche sul plot ma in questo caso abbiamo convoiato tutto in un unico punto vi consiglio di partire sempre o nei casi di visualizzazione un po' più complesse dal reactive graph perché questa è la fase di design di fatto delle interazioni che farete e che vi permette di capire se state ideando dei percorsi un po' tortuosi o se alcuni aggiornamenti sono più scomponibili e modificabili perché in questo caso è necessario che sia plot e average siano aggiornati ogni volta che selected che lo richiede viene invalidato però potrebbero esserci casi in cui è bene è bene disaccoppiare l'aggiornamento di due campi dell'interfaccia grafica e non farle dipendere entrambi da un unico reactive val ogni applicazione e interazione avrà le sue soluzioni ottime vi ricordo che l'obiettivo è quello di minimizzare il trasferimento tra client e server per questo avrà un impatto sulla fluidità poi dell'interazione così come abbiamo il reactive val abbiamo anche il reactive values che è semplicemente una lista di reactive val questo esempio è stato fatto andando a sfruttare la console reattiva in R quindi andandola a settare a true che permette di costruire anche interfacce grafiche volendo quindi permette di avere un ambiente già reattivo, già interattivo e che senza dover fare delle app shiny vi permette già di creare degli elementi interattivi in questo caso mi serve per farvi vedere come settare una lista di reactive values che ha come elementi x e y settati inizialmente a 10 eventi e a cui accedo, quindi io salvo sull'oggetto R a cui accedo con il dollaro ai singoli elementi R$X ed L$Y su cui poi posso aggiornare perché è un reactive val non è solo un elemento reattivo e quindi in questo caso aggiorno x con questa operazione vi devo fare alcune note su reactive values perché? e speculare al reactive val in termini di funzionamento ovvero quando io leggo un valore del reactive val io costruisco una dipendenza su quel valore quindi se io ho una variabile che prende valore da un elemento di un reactive val costruisco una catena poi di potenziali aggiornamenti del valore di invalidazioni e lo stesso vale per la scrittura quando io scrivo poi su un elemento di reactive val a cascata tutto si dovrà aggiornare e viene invalidato però tenete in mente che l'oggetto reactive values di per sé non è reattivo quindi non è reattivo R sono gli elementi di R tenetelo bene a mente una cosa da tenere a mente è anche la seguente che sperentemente da tutti gli altri oggetti in R modificando una copia di un oggetto reactive value modifica tutte le altre copie quindi guardate l'esempio io setto reactive values con il campo times a 150 e lo assegno a B2 e lo assegno a B1 quindi ho B1 e B2 che sono copie di sono entrambi contengono un campo reattivo che è times se io vado a modificare B2 times e lo vado a salvare su B1 times anzi, in questo codice non sto modificando B2 times io sto utilizzando il valore di times di B2 lo moltiplico per 2 e lo assegno a B1 quindi quanto vale B1 adesso? varrà 300 perché io prendo 150 lo moltiplico per 2 e lo salvo su B1 ma attenzione che per via della catena di come ho definito la copia che B1 è una copia di B2 B2 times vale 300 anche se non l'ho direttamente modificato perché? perché ho aggiornato il il reactive val è un comportamento strano da tenere a mente strano nel senso che è controintuitivo no, nel senso che non è logico e non dipende dalla implementazione sottostante benissimo, siamo ora giunti a alla seconda sezione di questa lezione utilizzeremo gli elementi che abbiamo definito fino a questo momento per andare a permettere, abilitare l'utente che usa la nostra app nella modifica dei grafici stessi quindi creare dinamicamente i grafici infatti Shiny permette questo livello di interazione che è un livello di astrazione ancora maggiore perché è un livello dell'utente che può settare alcune proprietà dei grafici come ad esempio le dimensioni può addirittura cambiare i dati che sono che nutrono il grafico e a livello massimo può andare a definire dinamicamente l'interfaccia utente che vede e la dashboard noi non vedremo quest'ultimo aspetto ci concentreremo solamente su una dashboard statica ma con grafici dinamici nel senso definibili dall'utente con alcuni gradi di libertà che dipendono ovviamente da come programmiamo l'ambiente iniziamo dalla cosa più semplice che è permettere all'utente di ridimensionare il grafico questo viene fatto creando un contesto reattivo lato server quindi attenzione che c'è in gioco una comunicazione tra client e server e viene fatto andando a definire delle funzioni senza argomento che corrispondono ai parametri larghezza ed altezza e dove la dimensione viene definita lato utente vediamo un esempio che sarà molto più chiaro guardate questa app che nell'interfaccia utente prevede due slider e un grafico gli slider servono a definire l'altezza e la larghezza abbiamo come valori predefiniti min e max 600 150 e 600 e il valore predefinito 300 come viene usata questa informazione degli input h e input v? viene usata nel renderplot in cui l'attributo width e l'attributo height che sono attributi della funzione di render viene abbinata a una funzione senza argomenti come vi ho detto che poi prende che serve a creare il legame con con il abilitare il legame con l'elemento di input infatti io prendo la larghezza e l'altezza e li assegno all'elemento di output lato ggplot non cambia nulla perché io visualizzo sempre le informazioni le stesse informazioni non tocco quindi il ggplot tocco le caratteristiche del render si traduce in questo in questo grafico abbiamo la potenza in relazione alla per come ho definito il ggplot al consumo al contrario il consumo in relazione alla potenza ho i fattori definiti e come vedete nella impostazione default è tutto un po' schiacciato allora posso operare sullo slider posso andare ad aumentare la larghezza lo stesso posso fare con l'altezza per andare a visualizzare il grafico nella modalità che più mi soddisfa quindi sfruttando l'interazione tra client e server con questo meccanismo abbiamo poi degli elementi dinamici un po' più fini un po' più complessi e che fanno leva sul 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 tie diverse quindi su questa parte del package dplir che prevede dei meccanismi di indirizzamento di non è la traduzione giusta di indirection ma è quella che più indirezione quella letterale funziona poco poco bene e i tipi di di indirection chiamiamolo in inglese sono dipendono da sono due dipendono dal dal fatto che noi stiamo utilizzando una funzione di mascheramento dati o una selezione tidy operazione tidy vediamo adesso più nel dettaglio partiamo dal data masking che è utilizzato ad esempio all'interno della funzione statics del dg plot ma anche molte funzioni quali filter mutate del dpi lai wire l'indirection è fatta attraverso del 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 tasse attraverso una sintassi particolare che andiamo a vedere adesso che prevede l'utilizzo del punto data del punto ev env per indicare se stiamo lavorando con variabili d'ambiente definiti nell'applicazione con variabili del del data frame di riferimento allora in questo caso utilizziamo punto data e questo è necessario perché perché le funzioni quali filter lavorano con entrambe le variabili quindi c'è bisogno di dire a shiny a quale variabili ci stiamo definendo perché perché noi spesso definiamo per permettere l'interattività dobbiamo alcuni valori vengono provengono dall'interazione con l'utente e quindi c'è dobbiamo dire shiny e dobbiamo avere un modo per definire meglio questo ora adesso vedremo un esempio direttamente con un lap che sarà più chiaro però ora simuliamo che il valore 15 ci venga da una qualche interazione e che si riferisca a una variabile d'ambiente e il valore mpg che è il valore della colonna mpg del dataset empty cars che si riferisce quindi ai dati anche questa può provenire da una certa interazione con l'utente quindi var definisce una variabile del data frame che quindi guardate come la uso in questo caso la uso io definisco che che fa parte del dataset di riferimento vedete che in questa pipe io prendo empty cart la do a filter quindi gli dico prendi la variabile var che ha valore mpg e che l'utente potrebbe cambiare in qualsiasi altra colonna di rat qsec quindi questo è un valore dinamico e controlla filtra in modo che i valori di questa colonna siano minore di cosa di un altro valore definito anche nell'ambito dell'interazione o dall'applicazione che però è una variabile di ambiente quindi è un valore non del dataset di empty cars ma è un valore dell'applicazione dell'ambiente applicazione che in questo caso è 15 ecco in questo modo il filtro farà esattamente quello che vogliamo quindi prenderà soltanto i valori di mpg che sono minore di 15 e questo è calcolato nella slide calcolato dinamicamente e sono soltanto i valori di mpg minore di 15 se nel corso dell'applicazione o se cambiate vi consiglio di cambiare di giocare un po con il codice sorgente di questa slide e di cambiare mpg in disp piuttosto che in qsec per vedere come cambia l'output e vedrete che questo è molto potente perché vi permette di andare a definire dinamicamente alcuni comportamenti che poi potete ribaltare sul grafico e come vi faccio vedere adesso abbiamo quest'ulteriore app che ha un input di selezione che vi permette di selezionare le colonne del empty cars quindi le scelte sono le colonne del data empty cars e voi potete selezionare un valore minimo proprio come avviene qui questo ci serviva questo codice ci serviva per introdurre il concetto e ora lo caliamo in una visualizzazione settato a 6 questo valore minimo quindi dovrete poi contestualizzarlo nell'ambito della colonna che selezionerete e poi abbiamo la tabella di output che ci darà questo risultato abbiamo lato server un reactive fatto in questo modo abbiamo la selezione filtro di empty cars con il codice che avete visto precedentemente quindi var da dove viene var? var viene dal select input quindi può cambiare dinamicamente che deve essere maggiore in questo caso perché io sto ragionando in termini di valore minimo da visualizzare di cosa? di un elemento min che anche in questo caso è un elemento che non deve essere calcolato sul dataset quindi per questo è .env ma che proviene dall'input min quindi in questo modo io permetto all'utente di interagire con un alto livello in questo caso sulla tabella potrebbe essere anche su un grafico ovviamente quindi visualizzare solamente gli elementi che superano 6 ecco qui l'interfaccia grafica io posso scegliere la variabile posso scegliere ad esempio til il numero di cilindri e dire che voglio almeno 6 in questo caso sono 6 quindi io ho solamente il numero di cilindri 8 posso abbassare a 4 e includo anche 6 vedete? incluso anche 6 posso abbassare a 3 e includo anche 4 ovviamente è contestuale al senso di questo filtro è contestuale ai valori della colonna questo è una... in questo modo potete manualmente dinamicizzare una tabella che altrimenti non è dinamica perché non stiamo usando il data table stiamo usando solamente il table output e non il data table output quindi molto potente potete potete fare ciò che volete il data table output è anche molto potente ma funziona secondo gli schemi predefiniti di default in questo caso potete personalizzare al dettaglio ciò che volete che l'utente possa fare quindi adesso ho cambiato in gear che posso visualizzare ad esempio nessuno perché non c'è nessuna macchina con 6, con 5, con 4 ne ho perché ho queste e così via adesso usiamo lo stesso meccanismo con il grafico e in questo modo vi faccio vedere come l'utente può decidere che grafico visualizzare ovvero che variabili mettere in relazione e lo fa semplicemente operando su due elementi di input che sono una scelta con un menu a tendina tra le colonne di empty cars dove ho la selezione di default impostata sul numero di cilindri per l'asse x mentre per l'asse y posso scegliere di nuovo su tutte le colonne di empty cars e con valore di default il consumo e che come è fatto il 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 plot ecco io uso questi parametri direttamente come parametri del data fail vedete che punto data e uso questa informazione per definire selezionare la colonna e il vettore che dovrò corrispondente che dovrò visualizzare quindi input x e input y quindi questo è il risultato di default ma l'utente può veramente andare a visualizzare e esplorare i dati come meglio crede quindi tenuta fissa ad esempio il consumo sull'asse y io posso visualizzare di volta in volta se ci sono correlazioni con altri fattori sull'asse x vedete questa è la potenza quindi maggiore la potenza minore il consumo il peso perdona e viceversa da questi sono mai per gallo di miglia che vengono fatte per per gallone le marce e così via e ovviamente posso cambiare anche l'asse y a piacimento questo per quanto riguarda mascheramento dati adesso ci occupiamo della selezione taidi che è leggermente più semplice selezione taidi è usata ad esempio nel select le informazioni le otteniamo direttamente con questi queste funzioni any of e all of la differenza tra i due che all of lancia un errore qualora noi abbiamo abbiamo fatto una selezione sbagliata perché il nome della variabile non funziona o any of se vogliamo ignorare questa questa eventualità passiamo direttamente all'esempio abbiamo un'interfaccia grafica fatta con un menu a navigazione in cui abbiamo un pannello per la selezione delle variabili per l'analisi esplorativa che voglio fare e la selezione delle variabili avviene attraverso di nuovo una scelta con un menu a tendina in cui posso scegliere le colonne dell'empty cars però attenzione che il menu a tendina in questo caso permette scelte multiple quindi io posso aggiungere colonne posso selezionare più colonne abbiamo sempre nello stesso tab una descrizione sintetica del delle colonne la sintesi statistica delle colonne selezionate poi abbiamo un altro tab in cui possiamo vedere i dati con un plot output il server è è molto semplice però la resa grafica come vedrete sarà molto potente innanzitutto ho una variabile d'appoggio che è un reactive in questo caso uso un semplice reactive e quindi non uso reactive values che è condizionale alla ricezione delle colonne e al che cosa fa prende il data frame mt cars e seleziona tutti o love tutte le colonne quindi seleziona nel dataset le colonne che che vengono specificate dall'utente il render print si appoggia sul reactive val per fare il summary mentre render plot di nuovo si appoggia sulla selezione questo caso uso un gg pairs per mostrare tutte le combinazioni possibili di coppie rispetto alle selezioni che ho fatto e vedete vedete cosa succede allora questo è il menù di migrazione in questo menù questo tab io selezionerò le variabili avrò il summary in quest'area io posso utilizzare vs e perdono in quest'area sotto e ho la descrizione sintetica e posso schiacciare sul tab successivo per vedere i dati in questo caso sono fatti non ha molto senso perché è fatto e c'è solo una variabile selezionata però io posso aggiungere disp e quindi viene aggiunto questa colonna nel summary e i dati iniziano a essere vedete c'è un po' di ritardo nell'aggiornamento perché ci sono tante comunicazioni tra server e client però inizia a essere molto più interessante perché io posso mettere a posso comporre il riquadro quindi mettere queste variabili a confronto posso decidere di aggiungerne altre quindi posso decidere di aggiungere le marce di aggiungere il peso di aggiungere il consumo e posso decidere di togliere la prima la prima variabile quindi ho quattro variabili e ho il grafico di output che si aggiorna quindi ho una correlazione per come è fatto il gg pair negativa ma posso anche vedere i dati come sono come sono fatti quindi ho un'approssimazione della funzione che interpola i dati e quindi ho tutte le combinazioni possibili tra le scelte che ho definito tra disp e gear tra weight e gear e disp e così via e così per tutte le per tutte le combinazioni possibili se esagero con con le con le variabili semplicemente avrò un un grafico ancora più più complesso eccolo qui un post è poco leggibile ma mi permette di esplorare i dati quindi vedete che l'utente le possibilità dell'utente migliorano molto e dovrete questo è un meccanismo di interazione molto avanzata a cui potreste aggiungere anche l'interazione con gli eventi del mouse ovviamente è molto più complicato perché abbiamo un'interazione dinamica quindi dobbiamo eventualmente tener conto di questo ma i meccanismi base sono sempre gli stessi possiamo anche questa è una terza modalità di costruzione dinamica di grafici che vi propongo possiamo anche costruire dinamicamente un grafico che sia condizionale a degli eventi o delle proprietà che definisco in un altro grafico vedremo un esempio con con le selezioni di eventi però potremmo avere lo stesso meccanismo utilizzando i meccanismi che abbiamo visto con il data masking e con il filtro per utilizzare l'input dell'utente il testo vi descrive che cosa fa quest'app quindi selezionando un campione con il brush in un grafico di sinistra è possibile esplorare con un grafico a destra un altro fattore che è il numero di cilindri che non veniva preso in considerazione nel grafico di sinistra ovvero il grafico di sinistra e il grafico di destra vengono definiti qui vedete la colonna di sinistra plot1 e la colonna di destra e un'altra colonna with 6 con plot2 ho anche un pulsante di reset vediamo lato server in cui il plot1 mostra il peso e il consumo mentre il plot2 mostra i cilindri in relazione al consumo ho come appoggio un reactiveval che all'inizio è settato a null quindi sel all'inizio è uguale a null questo mi permette di rendere la comparsa del plot2 condizionale al fatto che io abbia abbia questo sel questo reactiveval settato perché finché null il rec bloccherà qui quando il sel reactiveval sel che indica la selezione sarà diverso da null quando io ho definito con la selezione vedete input brush1 è definito nel grafico plot1 nel brushops io ho id brush1 vedete che tra l'altro viene ogni volta che io che ogni volta che l'immagine viene refreshata verrà resettato perché ho questo reset on new uguale a true quando questo evento che cosa faccio quindi quando questo elemento di l'evento viene osservato faccio quello che viene definito in questa riga di codice prendo setto il reactiveval l'evento reattivo lo setto con il data frame che viene restituito dal brushed points che prende un brushed points lineare secco che mi restituisce tutto il dataset tutto il sottodataset in merito alla selezione che ho fatto ovviamente ha anche un observe event per il bottone di reset che risetta null il mio reactiveval il reactiveval è usato sia dal renderplot è usato, perdone, è usato dal renderplot dal secondo renderplot con la selezione derivante dal primo renderplot il grafico 1 mostra il peso e il consumo guardate, questo è il grafico 1 per il peso e il consumo non ho nulla ancora, il grafico 2 ancora non ho nulla perché? perché è tutto bloccato, tutto dipendente dal reactiveval che in questo momento è nulla nel momento in cui io faccio una soluzione attivo questo codice, quindi attivo il ggplot che utilizzerà proprio cell il valore di reactiveval e utilizzerà, farà un prenderà i dati i dati del consumo e i dati dei cilindri dalla selezione e ovviamente potrei performizzare ancora meglio migliorare le performance andando a a settare ad esempio con reactive values una lista in cui salvo solamente il numero di cilindri e solamente il consumo solamente le due colonne potrei fare questa operazione in più per renderlo più performante per minimizzare i dati trasferiti utilizzo questi due fattori per fare un box plot quindi vediamo che io quando seleziono ad esempio voglio vedere in questa zona dove ho un andamento un po' più meno lineare in cui la correlazione è meno evidente vedete che è possibile vedere una correlazione tra il peso e il numero di miglia che posso fare con un gallone di benzina quindi più è pesante la macchina e meno miglia faccio però qui la correlazione è un po' falsata allora potrei esplorare se c'è in gioco il numero di cilindri ad esempio e vediamo che il numero di cilindri in realtà è che non ha continua con questa correlazione perché ho macchine con il numero di cilindri più alto che avranno meno miglia per gallone quindi consumano di più però è molto potente il meccanismo perché mi consente di mi consente di 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 esplorare elementi aggiuntivi per come ho costruito il grafico quando ho fatto reset io resetto cosa? resetto il reactive val e quindi invalido anche questo questo plot vedete faccio reset sparisce tutto e così potrei continuare e attenzione che io posso spostare la la selezione e il grafico si si aggiorna automaticamente molto molto potente vedete? potrei anche paradossalmente inglobare tutti i dati e vedere qual è l'effetto del numero di cilindri e vedere se l'effetto cambia ad esempio se per le auto molto molto pesanti ma sono quelle con il numero di cilindri anche massimo bene abbiamo concluso questa panoramica di interazioni con l'utente quindi la parte avanzata di interazione shiny che abbiamo visto arricchirsi rispetto alla lezione precedente di gestione degli eventi click doppio click mouse che passa sopra un'area selezione con in più la costruzione dinamica di grafici con dati provenienti dall'utente e con eventi provenienti dall'utente e anche la combinazione dei due volendo adesso finiamo questa parte avanzata andando a dare dei delle indicazioni per validare i dati dell'utente in quanto noi stiamo dando grande libertà all'utente ma dobbiamo essere in grado di di prevedere eventuali errori o comportamenti che mettano in crisi la nostra la nostra dashboard vediamo dunque come si fa la validazione dati in shiny in parte abbiamo già visto la funzione rec che che stoppa un 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 reactive producer e quindi invalida tutti i consumers a valle se non una qualche condizione non viene soddisfatta e la stessa funzione utilizzando proprio questa caratteristica potrebbe essere utilizzata quindi per validare gli input quindi per stoppare la visualizzazione di un certo risultato se alcune condizioni non sono soddisfatte infatti possiamo utilizzare sia il funzionamento base degli argomenti di rec che quindi controlla se il valore dell'input non sia null non sia false non sia una stringa vuota non sia un vettore vuoto ma possiamo combinare anche con dei criteri logici che inseriamo noi che sono più contestuali vediamo questo esempio abbiamo un numeric input che in cui vogliamo che vengano inseriti un numero da 1 a 20 e in cui io definisco minimo 1 massimo 20 valore di default 1 step 1 di progressione e poi mostriamo a video il valore vedete 2 viene mostrato 2 3 e così via la funzione di server implementa questo controllo con un reactive salvato in n blocca l'esecuzione se a e che raccoglie il num quindi l'input dell'utente se a è minore di 21 o a è maggiore di 0 quindi viene richiesto rec questa la soddisfazione di questi due criteri se questo se questo se il risultato di questo è false allora per il funzionamento di rec che abbiamo visto l'esecuzione si stoppa che cosa significa? che non viene restituito a quindi non viene eseguito l'ultima linea di codice quindi questo reactive non viene aggiornato e quindi non viene stampato nulla ma non viene perché n questi sono reactivi di supporto n è quello che viene stampato guardate se io metto 65 non succede nulla se metto meno 5 non succede nulla se metto 5 si torna a stampare benissimo molto utile però ci manca qualcosa ecco perché se non è molto informativo per l'utente sì certo l'utente lo sa che deve mettere un numero da 1,20 però vorremmo dare delle mostrare ai video dei messaggi informativi sul tipo di errore ad esempio vorremmo poter dire che è stato inserito un numero di negativo non va bene oppure differenziare il messaggio quando viene inserito un numero maggiore di 20 abbiamo bisogno quindi di qualcosa in più rispetto a REC abbiamo bisogno di dei meccanismi che ci permettono di dare del feedback all'utente condizionale ovviamente all'inserimento di alcuni valori di input per fare ciò ci appoggiamo al package shiny feedback che dovrete installare e richiamare ci sono diversi errori messaggi di errori disponibili feedback feedback warning feedback danger feedback success attenzione che devono essere chiamati lato server ma dobbiamo istruire siccome è un'interazione con l'utente dobbiamo istruire anche l'interfaccia grafica andando a definire questa funzione nella wii use shiny feedback che in pratica abilita la messa a video dei messaggi definiti lato server questi messaggi hanno come argomenti obbligatori vi lascio la documentazione vi rimando la documentazione per gli argomenti per i parametri non obbligatori l'identificativo se mostrare o meno il feedback che anche questo dipende dalla logica e il testo da mostrare un esempio l'esempio precedente è stato modificato in modo da usare shiny feedback nell'interfaccia grafica e il resto è rimasto lo stesso quindi dobbiamo inserire un numero tra 1 e 20 nel server abbiamo la stessa impostazione di validazione con il reactive e con il rec però prima del rec viene viene fatta una piccola modifica viene salvato il requisito logico del rec viene scorporato dal rec e viene salvato il valore in una variabile ok vedete torno indietro vedete che qui il rec veniva fatto direttamente con la condizione logica adesso ci scorporiamo la condizione logica la salviamo avremmo potuto agire direttamente su input num ma per non richiamare due volte il quel valore salvo direttamente in a e questo ok sarà falso vero e io cosa faccio nel feedback warning guardate io definisco che il feedback è da mostrare solamente quando ok è falso e verrà mostrato quindi un feedback che è agganciato a num quindi evito di scrivere la condizione qui perché perché mi serve anche dopo mi serve nel rec dopo quindi utilizzo la variabile ok quando è falsa mostro questo reminder potrei potrei fare il qualcosa di più fine quindi dire se l'errore avviene se perché o sono stato sotto l'1 maggiore 20 ma questi sono dettagli che potete facilmente implementare e mi preme che voi capiate questo meccanismo base per cui poi questa feedback non stoppa nulla al feedback quindi questo è semplicemente una visualizzazione all'utente che avviene o non avviene secondo il feedback il valore di ok il rec poi stoppa davvero l'interazione quindi se è vero utilizzo la meccanismo base di rec quindi se è true vado avanti altrimenti mi fermo se vado avanti il valore di n del reactive n sarà quello di a quindi sarà true o false perdone il valore di n sarà input num e verrà stampato a video quindi adesso possiamo finalmente avere qualcosa di più informativo per l'utente perché se scrivo meno 6 non solo mi stoppa l'output questo è il rec ma mi mi dà anche un messaggio mi mi mette mi evidenzia il in giallo il label del dell'input mi anche tutto il contorno mi mette un valore un segnale di 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 warning su cui in sovrappressione mi dà una spiegazione e mi dà in aggiunta anche per come ho definito il messaggio vi invito a guardare la documentazione per tutti gli altri messaggi perché questo è un feedback warning come abbiamo detto c'è anche un feedback danger un feedback success che avrà una colorazione verde mentre il danger avrà una colorazione rossa e così via e vi lascio anche vedere come funziona il feedback meccanismo è sempre lo stesso un ultimo tassello che ci manca è per coprire il caso in cui il noi abbiamo più input e settare un messaggio di feedback all'utente per ogni input potrebbe essere faticoso o ridondante allora cosa facciamo mandiamo un messaggio di feedback solamente agganciato all'output quando questo è utile quando quell'output dipende da tanti input possiamo usare la funzione validate message che va a mettere che va a validare l'output mostrando video messaggio può essere messo può essere richiamato dentro un reactive dentro un output ovviamente prende qualsiasi grande numero di argomenti anche di parametri non c'è limite ognuno ha una condizione a testare perché non c'è limite perché proprio serve nei casi in cui ho molti input da combinare e voglio mostrare un solo messaggio di output se una sola delle condizioni è fallimento allora viene segnalato un errore che non viene gestito da se non viene gestito da voi allora verrà mostrato all'utente è importante sapere che il validate stoppa l'esecuzione a valle simile al rec in questo caso abbiamo un'interfaccia grafica in cui dobbiamo ci viene chiesto di inserire un numero positivo e è molto banale e come output restituisco la somma e controllo lato server è la seguente viene fatto direttamente nell'output perché questo il significato del validate avrei potuto farlo anche dentro un reactive ovviamente però il messaggio è che io ho un unico posto in cui che combino più check su più input e poi valido in un reactive quindi un unico output o anche più output nel caso di un reactive da reactive dipendono più output il validate funziona in questo caso viene mandato il messaggio con un check a priori fatto con un if quindi se il numero è minore di 0 non 2 o minore di 0 molto banale altrimenti il validate quindi stoppa e poi viene 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 fatta la somma quindi 9 fa 10 8 fa 17 meno 8 il messaggio è unico per tutti e due gli input lascia l'utente a capire dove quindi meno 6 tolgo il meno da qui rimane la scritta tolgo il 6 da qui e siamo a 14 con queste nozioni voi potrete essere in grado adesso di validare ad esempio un upload di un file vi mostro un esempio molto molto semplice perché farò solamente un check sull'estensione però potreste mettere in atto meccanismi più fini questo esempio utilizza il file input per accettare csv file e mostrare al video il risultato il dato server abbiamo il codice che avete visto nel laboratorio 1 e che viene arricchito con quei seguenti controlli allora viene fatto innanzitutto il requisito che ci sia un file che quindi ci sia quell'evento poi viene verificata con questa stringa utilizzando il package tools viene fatto un check sull'estensione viene salvata l'estensione viene fatto il check se sia uguale o diverso da csv quindi il validate stopperà se non l'estensione non è csv stopperà l'esecuzione e quindi non verrà mai letto in questa riga altrimenti si può andare avanti e possiamo mostrare il data frame vediamo ora un esempio clicco su browse provo a caricare un file json e ho questo messaggio d'errore only csv files are admitted quindi è avvenuto un upload però non viene fatta alcuna computazione provo a caricare il file dei marcatori e ho visualizzato il contenuto ovviamente questo contenuto funziona perché ho un read csv che è stato pensato per questo esempio e con separazione dei campi attraverso virgola e se avessi avuto una separazione attraverso punte virgola e non avessi avuto alcun controllo su quello avrei avuto un output non conforme al contenuto quindi attenzione che questo è il meccanismo base di validazione che vi ho mostrato usando gli stessi strumenti potete poi aggiungere in maniera incrementale tutti i controlli di cui avrete bisogno questo conclude la lezione su shiny avanzato in cui abbiamo visto come avere un'interazione molto più complessa con i grafici con l'interfaccia grafica come gestire eventi con il mouse come poter costruire dinamicamente i grafici lasciare all'utente quindi ampio spazio di manovra per modificare i grafici e infine come normare questo ampio spazio di manovra con alcuni meccanismi di validazione dell'input ci sono ulteriori aspetti che non abbiamo coperto quale ad esempio la creazione di intere dashboard dinamiche per fare ciò vi rimando ad esempio per avere anche solo un'idea di come potrebbe essere il risultato vi rimando ad esempio al package expander o al tool exploratory che sono costruiti direttamente in shiny in cui potete usarli proprio per fare le analisi esplorative in cui definite voi stessi le dashboard vi rimando al package dashboard per avere dei template per costituiti come per costruire delle dashboard e poi a una lista di libri in cui potrete appoggiare le conoscenze che avete appreso in questa lezione e nella precedente per sfruttare al meglio i livelli di interattività che vi abbiamo introdotto ovviamente valgono tutti gli altri link delle risorse mostrate per la lezione di shiny basics anche e vi ringrazio per l'attenzione vi rimando alla sessione di laboratorio per mettere in pratica quanto abbiamo visto qui arrivederci vi ringrazio per l'attenzione vi ringrazio per l'attenzione